Allora ciao a tutti, sono Ettore e come vedete sono in una location un po' particolare perché siamo in viaggio, stiamo andando verso una nuova tappa del nostro spettacolo che stiamo portando in giro in queste settimane. Però ci tenevo a rubare qualche minuto al nostro trasferimento per parlare con voi e invitarvi a continuare a sostenere e a farlo con sempre maggiore convinzione, questa iniziativa di Special Olympics che è meravigliosa, riuscire a portare questo gruppo di ragazzi a vivere un'esperienza di sport così entusiasmante dall'altra parte del mondo in una cornice così prestigiosa è un'occasione che veramente dobbiamo tutti sforzarci di fargli vivere. Quindi io sono assolutamente contento e motivatissimo nel dare anche a voi il mio sostegno per questa iniziativa e invitarvi ad andare sul sito www.specialolympics.it per adottare uno di questi meravigliosi campioni che naturalmente non vanno lì per vivere il risultato sportivo e questa è anche una delle magie di questa iniziativa di Special Olympics. Lo sport come occasione per stare insieme, per conoscere se stessi, per fare amicizia e per vivere nella gioia le occasioni che arrivano. Quindi sono assolutamente convinto che questo sarà un grande successo ma per poterlo ottenere dobbiamo sostenerlo tutti. Quindi specialolympics.it mi raccomando adottate un campione e poi secondo l'invito che mi è stato anche fatto di nominare un amico io ce l'ho qua accanto a me, non vi dico neanche chi è e ve lo faccio salutare. Eccolo qua. Sono Corrado Tedeschi, adesso mi tolgo gli occhiali. Ciao! Questa è un'iniziativa meravigliosa anche perché i campioni veri sono questi, non sono quelli che vedete la domenica in televisione che guadagnano i milioni di euro, no, i campioni veri sono questi, quindi sono questi quelli che dovete adottare. Fate questo perché farete veramente una bellissima cosa. Beati loro che vanno a Los Angeles tra l'altro. Eh sì, infatti. Magari ci facciamo un salto anche noi. Eh sì! Comunque intanto seguiamo l'iniziativa da vicino, vi monitoriamo perché veramente c'è bisogno del vostro aiuto. In bocca al lupo a tutti, grazie del sostegno. Teniamoci in contatto www.specialolympics.it Ciao! Ciao!